La regione toscana ha ampliato i controlli preventivi per la diagnosi precoce dei tumori e i cittadini hanno risposto all'appello. L'incremento più consistente riguarda gli screening del tumore al colon retto. I cittadini invitati a sottoporsi al controllo sono passati dall'88 al 99,5%. Solo la metà però ha risposto all'esame, a dimostrazione che gli uomini più frequentemente colpiti da questa patologia sono meno sensibili all'importanza della prevenzione rispetto alle donne. Eppure ormai è chiaro che gli screening per diagnosticare il cancro agli stadi iniziali salvano la vita. Lo screening salva la vita perché i soggetti che hanno una diagnosi di tumore dallo screening hanno una prospettiva di vita sicuramente maggiore di quelli che hanno la diagnosi occasionale non precoce. Sono invece molto alte sia l'estensione che l'adesione agli screening per i tumori femminili alla mammella e al collo dell'utero, il 94% delle donne nella fascia di età a rischio è stata invitata a fare la mammografia e il 74% si è presentato all'appuntamento. Per quanto riguarda l'introduzione del test sul papilloma virus per la prevenzione del tumore al collo dell'utero in sostituzione del pap test nelle asle di Firenze, Viareggio e Grosseto, dai privi riscontri sembra che questa novità non abbia minato la fiducia delle donne interessate, quelle di età compresa tra i 34 e i 64 anni, ma che anzi abbia migliorato la partecipazione.